Cosa chiede Mr. Auteri sabato per questa partita contro il Biscegna? Chiede quello che ci chiede sempre, determinazione, lottare su ogni pallone e cercare di fare un gol rispetto agli avversari. Come affrontiamo tutte le altre squadre? Cerchiamo di imporre il nostro gioco, di tenere ritmi altri e cerchiamo di fare il meglio possibile. Per il giugno di Monopoli non è stata una grandissima prestazione, però vediamo pure gli aspetti positivi che stiamo analizzando in questi giorni e cerchiamo di migliorare i difetti che abbiamo. Tu come ti senti con il giugno di le tue prestazioni finora? A che punto ti senti? Quanto puoi migliorare? Da migliorare c'è sempre, abbiamo tutte immagini di miglioramento. Le prestazioni ci sono state qualche prestazione più buona, qualche prestazione meno buona, ma con il lavoro e tutto quanto possiamo sempre migliorare e cercare di fare bene. Grazie a tutti.